Abbiamo già parlato della quarta edizione della rassegna musicale Souvenir d'altri tempi che si è svolta nella chiesa Santa Maria Maggiore di Alati, ne abbiamo parlato nella volta scorsa e come promesso trasmettiamo alcuni momenti del festival del flauto nel quale si sono esibiti il maestro Salvatore Bella, primo flauto del Teatro Bellini di Catania e giovanissimo questo farà virulamente una bella carriera questo ragazzo, mi affascina proprio Francesco Polletta che sono stati accompagnati dall'orchestra Sinfonia Nuova con alla direzione il maestro Maglio Polletta che è il creatore della bella manifestazione musicale che quest'anno era alla quarta edizione Grazie a tutti Stasera avremo degli artisti di primo piano abbiamo spostato un artista dalla Sicilia, un maestro, un flautista di grande nome, di grande spessore il maestro Bella, io saluto, do il benvenuto alla città, l'ho conosciuto e non vedo l'ora di ascoltare, perché so che anche lui ti saprà entusiasmare col suo virtuosismo la quarta edizione è che siamo partiti quattro anni fa con il maestro Angelo Versichilli che ha tenuto a battesimo la rassegna negli anni successivi ci sono stati altri flautisti illustri come il maestro Mario Cillotti, Bruno Parola Lombardi e quest'anno il maestro Sampatore Velli la rassegna è dedicata al flauto nel suo ambito solistico e concertistico è dedicata sia a frutisti noti che a giovani promessi la rassegna è dedicata alla città la rassegna è dedicata alla città io stasera inseguirò il concetto di un sacco di un minore del flauto di Questa d'Archi poi eseguiremo assieme a Francesco Polletta l'andanda rondò di Doppler per due flauti, sempre l'orchestra da barchi, e poi un domani, ecco la sorpresa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.